Colleghi, l'ordine del giorno rega l'audizione informale dei rappresentanti dei sindacati Orsa e USB nell'ambito della discussione delle risoluzioni Fria, Ghio, Traversi, Furgiore e recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale. Averto che l'audizione, ovvero un vicino a obiezioni da parte degli auditi, sarà trasmessa sulla web tv della Camera dei Deputati. Passo quindi poi la parola a Giovanni Ceraulo, coordinatore nazionale Mare e Porti e José Nivoi, coordinatore nazionale Mare e Porti e componente esecutivo nazionale USB Lavoro Privato. Grazie, innanzitutto volevamo a nome dell'organizzazione che rappresentiamo portare i saluti al Presidente e agli onorevoli componenti della Commissione. Allora, noi crediamo sia utile e necessario prima di andare nel merito delle risoluzioni in discussione prima di affrontare qualsiasi ipotesi di riforma che abbia appunto come obiettivo il rilancio del sistema portuale fare una veloce premessa circa le condizioni attuali che caratterizzano tale sistema. Tra pochi mesi correrà il trentennale dell'approvazione della legge 84-94 che è appunto la legge che regola il sistema portuale e anche le dinamiche legate all'organizzazione del lavoro all'interno dei porti. Una legge che come tante altre approvate in quel periodo aveva, almeno a quei tempi, l'obiettivo di favorire la cosiddetta libera concorrenza, l'efficienza e l'efficacia di un sistema e proprio in nome di quei principi si andò a smantellare quelle che erano le storiche compagnie portuali italiane. Compagnie che appunto erano l'unico soggetto deputato a svolgere le operazioni portuali. A distanza di trent'anni la realtà attuale ci consegna uno scenario parecchio diverso. Siamo di fronte a un pugno di soggetti armatoriali che di fatto in questi anni hanno, come dire, creato dei veri e propri oligopoli se non addirittura dei monopoli nelle banchine italiane. Una concentrazione di potere che a nostro avviso è molto pericolosa e che giudichiamo inaccettabile. La realtà ci consegna anche il proliferare di una miriade di soggetti autorizzati articolo 16, nati in origine come, fra virgolette, terminalisti su banchina pubblica, che si sono in realtà trasformati in meri soggetti portatori di mano d'opera, spesso in concorrenza tra loro, per accaparrarsi dei contratti di appalto, in un contesto che ha determinato una contrazione, quindi, a ribasso delle tariffe di lavoro all'interno dei porti, che queste non sono stabilite per legge, e un conseguente peggioramento delle condizioni generali di lavoro e un aumento vertiginoso dei carichi di lavoro anche a discapito della sicurezza. Un sistema di concorrenza, quindi, valido solo per quanto riguarda la componente lavoro, che però sta trascinando, appunto, il settore verso il basso. Una realtà in cui gli articoli 17, che loro sì dovevano essere i soggetti principali per quanto riguarda la somministrazione di mano d'opera, su questo non possiamo che essere, come dire, d'accordo, che però si trovano in uno stato di crisi evidente negli ultimi anni. In definitiva, come organizzazione sindacale ormai presente e rappresentativa nei maggiori porti italiani, siamo molto, molto preoccupati di questa situazione. Restiamo convinti che qualsiasi riforma debba passare dalla strenua difesa e dal rilancio di una gestione pubblica dei porti, una difesa del ruolo pubblico delle autorità portuali, che, se possibile, dovrebbe avere maggiori strumenti e maggior potere di controllo e di intervento diretto all'interno delle singole realtà territoriali. La difesa degli organi consultivi, che andrebbero allargati, piuttosto alla partecipazione, tra l'altro, come dice la legge stessa, a tutte le organizzazioni rappresentative. In conclusione, auspichiamo la massima partecipazione e condivisione rispetto al dibattito in atto sulla riforma dei porti, apertura che non abbiamo, purtroppo, ancora riscontrato da parte dell'attuale Ministero e che ci ha portato, quindi, in questo momento, anche a organizzare, come dire, delle iniziative di mobilitazione a partire dal prossimo 30 novembre. Lascio la parola. Abbiamo avuto, appunto, modo di leggere quelle che erano le relazioni dei deputati e le cose che ci preoccupano, soprattutto, è la centralizzazione del potere dell'autorità portuale, perché, se questo significa togliere dei ruoli a livello locale, l'abbiamo già visto nell'ultima riforma, dove vengono unite le autorità portuali a livello locale e levare, come dire, quella forza per contrastare quei monopoli che abbiamo visto nell'ultimo anno, soprattutto dopo il decreto concorrenza, per noi è molto preoccupante. Se, invece, creare la centralizzazione del potere significa far sì che lo Stato e, quindi, il pubblico abbia un ruolo determinante per creare, diciamo, le realtà portuali come le conosciamo, cioè con questo variegato di ingresso di merci turisti, come vediamo nel porto di Genova, nello specifico, allora potrebbe essere, come dire, quella valore aggiunto rispetto alle entità locali. Ci auguriamo che all'interno della riforma vengano inserite anche il lavoro usurante per tutti gli articoli, quindi 16, 17, 18, quindi i lavoratori stessi, un prepensionamento dovuto anche al fatto che il lavoro in banchina è, come dire, appunto usurante, quindi permetta un turnover, vista anche l'alta età che c'è all'interno della banchina. Ora porto sempre l'esempio di Genova, un'età media di circa 50 anni, non è mai possibile che un porto come il porto di Genova abbia un'età media così alta, visti anche i volumi che entrano in questo porto qui. Quindi ci auguriamo che, appunto, come veniva detto dal mio collega, ci sia modo a tutte le parti sociali di partecipare e che vengano rafforzati anche quei tavoli già esistenti come quelli, ad esempio, del partenariato. Grazie. Grazie a lei, d'ora la parola ai colleghi. Collega Fria. Grazie Presidente. Io ringrazio i rappresentanti dei sindacati che oggi sono qui con noi in audizione perché il tema del lavoro nel mondo portuale è comunque un tema importante. Ovviamente durante questo percorso in Commissione è stato più volte rimarcato quanto, in qualche modo, debba essere posta l'attenzione in maniera molto più forte su questa tematica. Noi, come Fratelli d'Italia, tra l'altro, più in generale, attraverso la proposta di legge del senatore Malan, stiamo intervenendo, che già c'è al Senato, ma sarà presto messa l'attenzione dei lavori del Senato, che va a lavorare sul codice della navigazione per andare a uniformare alcune normative che riguardano comunque chi lavora nel sistema marittimo più in generale, modificando il codice della navigazione. Il tema del lavoro a interno dei porti è un tema che va gestito perché quello della sicurezza ovviamente deve rimanere l'attenzione anche di questa Commissione. La domanda che mi ponevo era questa, anche di fronte un po' alle domande che sono state poste anche addirittura al Ministro o al Ministero. Che cosa è stato fatto in passato, secondo voi, che nella direzione, diciamo, che avete indicato, cioè nel passato i governi precedenti, che strumenti o che cosa hanno messo in campo per rispondere in qualche modo agli interrogativi che oggi avete posto in Commissione e che sono assolutamente interrogativi corretti e leciti. Grazie, giusti. Grazie, ringrazio anch'io per il contributo. Mi fa piacere sia stato toccato anche il tema della formazione perché nella nostra risoluzione abbiamo inserito questo tema proprio perché ci è stato segnalato nella convinzione che, insomma, parliamo poi più espressamente del lavoro del marittimo in questo caso, ma stia diventando una possibilità per chi se lo può permettere e non per tutti quelli che abbiano la volontà, la voglia, l'impegno per poterlo fare. Quindi credo che un prodotto che esce da questa Commissione, da un percorso di questa Commissione, che ha affrontato e sta affrontando in queste settimane l'ascolto di tante realtà importanti come le vostre che si occupano del tema, debba anche fare un riferimento su questo elemento. Credo che il tema del lavoro sia uno dei temi centrali, ne abbiamo affrontato tanti perché la portualità ha tante sfaccettature nel momento in cui si va a ragionare di un sistema di aggiornamento, di riforma e di modifica, si devono ovviamente trattare e sono correlate dalla governance agli investimenti infrastrutturali, al tema della transizione energetica, tutto quello che riguarda, diciamo, quello che... Però io credo fortemente, e abbiamo cercato di inserirlo in questo modo nella risoluzione, che non si possa affrontare il tema di miglioramento e di riforma della portualità senza mettere al centro il tema del lavoro, in particolare la qualità del lavoro. Non tanto per sradicare, diciamo, quello che è l'assetto, che comunque è un assetto che da diversi punti di vista ha una sua solidità, ma per incidere rispetto al miglioramento della qualità. Noi riteniamo che ci siano diverse questioni e su queste, a partire da lo sblocco dei fondi per il prepensionamento e quindi per poter consentire un ricambio generazionale, che è molto correlato anche al tema della sicurezza, perché proprio nel porto di Genova uno degli ultimi incidenti, insomma, la persona coinvolta purtroppo ha un'età molto elevata, ecco. E quindi è sicuramente un tema. E così come il tema della prosecuzione dei licentivi, dei sostegni dell'articolo 199 che hanno consentito in periodo pandemico, ma ora in periodo di crisi internazionale, dove ci sono varie variabili, pensiamo che consentano ancora ai soggetti che operano in porto di sostenersi. Ecco, la domanda è semplicemente quali sono le prime direzioni, secondo voi, da intraprendere proprio come atti da chiedere nell'ambito di questo percorso per dare tutela e miglioramento delle condizioni del lavoro nell'ambito della portualità. Grazie. Collega Iaria. Io farò una domanda proprio diretta. La presunta o ventilata ipotesi della privatizzazione dei porti, voi avete già più o meno risposto, che noi abbiamo chiaramente anche sottolineato nella nostra risoluzione, nella risoluzione a firma del collega Traversi, come la state chiaramente vivendo e chiaramente volevo appunto un'opinione dai sindacati proprio sulla, se confermate, la pericolosità di anche solo parlare di una possibile privatizzazione dei porti. Io vorrei rispondere innanzitutto all'ultimo sollecito dell'onorevole. Noi siamo molto preoccupati per quanto riguarda il dibattito in atto, vero o presunto, di questa possibile privatizzazione dei porti, ma bisogna fare una piccola premessa. Di fatto, con il sistema delle concessioni che negli anni si è trasformato e quindi siamo arrivati a concessioni addirittura anche cinquantennali, diciamo che la pericolosità della questione della privatizzazione purtroppo bisogna ammettere che è già in parte in atto nella misura in cui esistono, come dicevo prima, dei soggetti che hanno accumulato evidentemente un potere anche dal punto di vista economico e quindi attraverso anche società collegate hanno di fatto iniziato una vera e propria scalata di quelle che sono le banchine nei porti principali e i rischi sono tanti e sarebbe troppo lunga. Però uno di questi è sicuramente il fatto che in questo modo si trasferisce a un soggetto privato comunque un settore strategico per uno Stato e quindi anche la possibilità di determinare quelli che possono essere i traffici più o meno da spostare in un porta a un altro. Noi siamo assolutamente convinti che invece si debba in qualche maniera porre non solo un freno ma anche rilanciare come dicevo prima una gestione pubblica delle banchine e in qualche maniera e concludo ci preoccupa non solo la parte della privatizzazione dei porti ma anche la possibile privatizzazione di quelle che sono le autorità di sistema. Anche questo è un dibattito in atto se ne dicono di tante però noi siamo assolutamente convinti che gli esempi anche europei che vanno in questa direzione siano alquanto diciamo pericolosi e il fatto che un ente come le autorità di sistema comunque debba rimanere un ente regolatore terzo assolutamente in mano al pubblico questo non risolve tutti i problemi ma quantomeno può essere come dire una garanzia. Volevo rispondere alla onorevole secondo noi uno dei primi interventi che andrebbero fatto è controllare come vengono date le concessioni agli articoli 16 perché quello che stiamo vedendo le autorizzazioni mi scusi perché quello che stiamo vedendo nei porti diciamo un po' più deboli rispetto a quelli che possono essere magari quelli di Genova o Trieste o Civitavecchia vengono date tante concessioni ad articoli 16 che creano un sorta di dumping sociale quindi un rincorsa a stare all'interno del mondo del lavoro del porto ammazzando di fatto quello che è il mondo del lavoro e quindi di conseguenza come dire minor sicurezza lavorativa all'interno delle banchine e tutto il sistema poi diciamo che va verso quella che è la deregolamentazione reale quindi diciamo che nel momento in cui si debba intervenire con le autorizzazioni articolo 16 se già esiste un articolo 16 collegato a un organico porto e c'è bisogno di aumentare quello che è l'organico porto si incrementi un articolo 16 specifico e non che si come dire a macchia di leopardo ci siano migliaia di articoli 16 sul porto italiano per quanto riguarda invece l'onorevole che faceva la domanda su quelli che erano che sono stati gli interventi nei governi passati noi abbiamo visto come dire pian piano mangiarsi appunto da ora scusate se parlo in questi termini ma da varie società da alcune società specifiche banchine faccio l'esempio sul porto di Genova dove c'è un player a livello internazionale molto importante che nei solo due chilometri di banchina detiene quasi il 65 del traffico container e andato a acquistare un'altra banchina sempre sullo scalo genovese facendo sempre diciamo merci container andava già contro quella che ha l'84-94 che di fatto in un suo articolo specifico dice che un come dire un terminalista non può avere una banchina nello stesso polio portuale che fa le stesse merci in questo caso grazie a un accordo di rete si è bypassato questo principio e grazie al decreto concorrenza di ottobre 2022 se ulteriormente bypassata quella che è l'84-94 quindi uno dei nostri diciamo preoccupazioni è che quella che la legge attuale venga difesa è migliorata rispetto a quello che è l'attuale modello cioè quindi che in tutti i porti italiani ci sia una difesa dell'84-94 grazie collega Fria una precisazione che a Genova voglio dire nel passato c'era una gestione diversa e questo terminalista c'è lì da molto tempo non è una questione di oggi ecco continuiamo questo dibattito su Genova un'altra volta ringrazio gli auditi ringrazio gli auditi e anche i commissari potete integrare anche quanto ho detto anche con la memoria scritta e quindi grazie mille per il vostro contributo